permesso buongiorno vi stai pagando ora quanto ne vuole buongiorno oggi per voi abbiamo un investimento sicuro potete pagare anche a rada c'è euro corpo allora qui abbiamo la cucina una stanza da letto matrimoniale con due posti qui abbiamo il soggiorno con quei bellissimi esemplari e qui c'è un bellissimo gabbuzzino che come potete vedere è piccolino ma per mettere roba menuta e delus il mobile drink non vende sogni ma solo in realtà parola di ciccio di martino